gridando se stessa cerchio k attraverso marco a cura di vb guida psichica quanto fin qua esposto a proposito delle religioni potrebbe far sorgere delle perplessità in chi legge i testi delle nostre comunicazioni ci sembra pertanto necessario aggiungere quanto segue la verità del discorso sapienziale generale ossia dell'insieme delle opere in cui i grandi spiriti del passato i maestri dell'umanità hanno racchiuso i vari aspetti della cosiddetta rivelazione trasmessa da sempre ai vari popoli ben poco ha in comune con quella che le molte organizzazioni hanno costruito intorno alla verità sia dal punto di vista della interpretazione dei sacri testi che da quello non meno importante della relazione tra l'adepto il fedele e le conclusioni che da questa interpretazione discendono noi dunque affermiamo che esiste un divario ancora oggi insanabile tra il messaggio la verità e le religioni le diverse strutture che sui distinti aspetti del discorso divino sono sorte era però necessario che le organizzazioni nascessero prosperassero e si moltiplicassero proprio al fine di persuadere di convincere gli uomini che nessuna di esse poteva e può essere depositaria di un messaggio che pur essendo saldamente unitario ed indivisibile ha e non potrebbe essere diversamente un aspetto multiforme e poliedrico altro importante scopo delle religioni fu ed è quello di fungere sia da freno inibitorio rispetto a certi istinti che forse se lasciati liberi di esprimersi avrebbero financo schiacciato il genere umano sia da catalizzatore di grandissime forze spirituali le quali hanno prodotto nella storia evolutiva del vostro occidente figure come santo francesco aggiungiamo inoltre che fin quando alcune creature non avranno esaurito certi aspetti del loro karma l'esistenza delle chiese non potrà cessare un inevitabile decesso dovuto al fatto che ognuno di esse si ritiene custode di tutta la verità e da cagione di questa arrogante pretesa di presunta unicità di questa esclusiva e propria potestà condanna tutte le altre come reprobe e conseguentemente separa i popoli e divide gli uomini ma non è più così lontano il giorno in cui la verità stessa per evoluzione raggiunta da parte della umanità sorgerà insopprimibile gridando se stessa la propria natura eterna ed immutabile all'intimo di ogni creatura nota 1 razza per razza l'insegnamento intende una umanità cioè una quantità innumerevole di entità che conducono insieme la propria evoluzione legate da limitazioni affini questo concetto non ha nulla a che vedere con le razze nell'accezione umana razza bianca nera eccetera infatti le razze umane sono state chiamate da questo insegnamento sotto razze continua grazie a tutti grazie a tutti